la borsettina con il vestitino da mettere alla cagnolina si era staccato il filmino prima perciò poi è uscito anche la collanina da mettere sempre alla cagnolina come bello 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 molto carino melody ti piace a melody piace più il cartone si melody ecco mangia di cartone guarda la cagnolina ti guarda vada com'è carina guarda ti piace si melody ti piace la cagnolina si ok sono molto contenta fortunatamente è uscita il personaggio che rappresentava sullo scatola e che mi piaceva tantissimo un bacio a tutti ciao ciao